Musica Porca droia, 5.000 monete per una scopa questo, devo ricordarmelo Visto che le missioni di questa parte sono 3, ovvero lezione di animali, questa qui luna storta e l'elmo Io farei prima questa qui della luna storta per sbloccare subito Alomora e via, almeno se iniziamo a trovare cose chiuse le possiamo finalmente aprire Vuoi vedere che c'entra qualcosa la cosa di Demidius? Salve di nuovo signor Moon Speravo proprio di rivederti giovane amico, Gladwin Moon, custode di Hogwarts, al tuo servizio Tanto di cappello Per prima cosa mi scuso se ti sono sembrato un po' instabile l'ultima volta che ci siamo visti Avevo avuto un incontro sconvolgente Anche se pare che la tua visita a Hogsmeade sia stata ancora più movimentata E beh certo Movimentata è un eufemismo Non mi aspettavo un attacco da parte dei droghi E chi se lo aspettava? Certo che no E da ciò che so al borgo sono stati fortunati che ti trovassi lì A proposito, la mia recente visita a Hogsmeade è il motivo per cui speravo di incontrarti Mi servirebbe il tuo aiuto con una cosa Ok, sentiamo Vedi quella strana statua laggiù? Guarda cosa accade quando la luce cambia e il giorno diviene notte Ok Così E all'improvviso Puff, fu notte Si illumina Ok Merito del tuo coraggio Ora se non ti dispiace dedicarmi un attimo Vedi se riesci a togliere la luna dalla statua Ah Strani consigli non trovi? E pare che la statuetta svanisca una volta rimossa la luna Il che, per inciso Si può fare solo di notte Ok Vieni la tu quella per il momento Ti spiegherò tutto strada facendo E all'omora? Da quel fatidico giorno al villaggio Le strane statuette non fanno che apparire in giro per il castello Ma in realtà già l'avevo vista già da prima io Qualcuno sembra volermi tormentare Vedi Quel giorno a Hogsmeade Ho svoltato l'angolo E mi sono ritrovato faccia a faccia con un molliccio Ho muta forma, che dir si voglia E che come sai Prende le sembianze di ciò che ti spaventa di più Certo, certo E questo si è trasformato in un demigaze Un demigaze? Ma non è demigaze? Si Comunque Una creatura orribile capace di vedere il futuro Assolutamente inquietante E diventare invisibile Io ho incontrato uno da ragazzo In Corea Un'esperienza terribile E le statuette raffigurano proprio i demigaze Presumo che le lune invece siano uno scialbo riferimento al mio nome Qualche bell'imbusto ho usato un molliccio per scoprire la mia più grande paura E usarla contro di me Le lune quindi Ho già qualche sospetto su chi possa essere il mascalzone o i mascalzoni dietro al misfatto La mia speranza è che chiunque sia si tradisca da solo man mano che le statuette spariscono Per questo ho bisogno che mi aiuti a farle sparire Perché io? Per un paio di motivi a dire la verità Il fantasma all'improvviso L'audacia che hai dimostrato contro quei troll a Hogsmeade Ti ha fatto tenere l'anomea di senza paura Da chi? Chi lo dice? Secondo, per quanto siano macabri e orrendi i demigaze Molvi troverà ingiustificata la mia paura Tu tuttavia hai visto che effetto mi fanno? Non so più che fare Non riesco proprio ad avvicinarmi a quelle orrende statuette In effetti so che ce ne sono due qui nella torre del corpo docente Magari potresti iniziare a togliere quelle così posso procedere con i miei lavori serali Vabbè certo, non voglio finire nei guai e cosa ci guadagno? La torre del corpo docente Non credo di poterci andare Esatto Preoccuparti, tu cerca solo di non farti vedere e andrà tutto bene Per prima cosa, sai lanciare un incantesimo di misillusione Certo che lo so fare Ti conviene farlo se vuoi aggirarti per la torre di notte Seconda cosa, troverai la porta chiusa E come farai a entrare allora? Semplice, con la luna E ce lo insegna il custode del castello Coprifuoco, sciocchezze Mi sembri tale quale a me alla tua età La scuola era il mio regno E io ne approfittavo Ero il beniamino di tutti E ora sei il bidello Che tutto rispetta Perché il bidello di Hogwarts, capiamoci Troverai una statuetta nel bagno dei prefetti E l'altra nell'infermeria Buona fortuna De grazie Di nulla Vabbè, insegnami a Lomora quindi A Lomora Vai Ma a me sembra che non siano gli incantesimi a diventare più difficili Quanto la quantità Cioè nel senso Se sbloccavamo Lomora Al secondo giorno Era molto più semplice con i tasti Mentre adesso ce ne sono molti di più Riavvicinarti alla seratura e fare Lomora Lomora Ebbè Grazie al cazzo Non mi ricordo che gioco era Che dovevi tenerli tutti e due premuti Fino a che non iniziava ad aprirsi Rivelio A parte che siamo dei criminali pezzi di merda Che stiamo rubando i professori Che ci hanno accolto Con tanto affetto al quinto anno E stiamo Cazzeggiando nelle loro stanze Qua non solo ci dovrebbero espellere Ma ci dovrebbero sparare in fronte Bello Tutto bianco Ah Oh cacchio Chiave di Dedalo Riporta la luce altre lune di Ah Con altre lune sblocchi il potenziamento di Alomora successivo Ok Ora ha senso almeno Grazie gioco Chi l'avrebbe mai detto che deve usare disillusione Eccolo lì infatti il prefetto Ma se lo pietrific tu sto talo Eccola lì la chiave Iniziamo a seguire la chiave Dove va? Dove sta andando sta maledetta? E ok almeno questo ce lo leviamo già dalle scatole Fatto Al primo tentativo Grazie Già che ci sono Provo anche a rivedere questo qui Quindi 8 più 5 13 Mi serve lo 0 3 più 2 5 Mi serve il 9 Che è l'idra A posto Che tra l'altro Qua mi sembra di esserci già stato No forse è solo una delle tante zone Che si assomigliano tra di loro Un tavolo enorme Mentre dentro questa cassa enorme Bello Gli occhi di tritone Che bello Era più bello il tavolo Ok Bravo Ragazzo Vai vai Spero più che altro Esatto che mentre fai all'umore Non Cioè il mondo non avanza Che strano Non c'è neanche un professore Dentro le proprie Ho appena notato che sta Camera è tutta sottasopra O meglio Almeno i quadri Lui sta curiosando Nella stanza che abbiamo aperto prima Ma questa non era chiusa prima È vero Dobbiamo fare anche attenzione I fantasmi È vero È vero Come vanno i studenti quest'anno Piuttosto male Direi È vero Stiamo crescendo Una generazione Rebellio Di martelli gonfiati Rappolliti Che a malapena Sanno distinguere L'acconto Dio suo delo No 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 È ancora presto Magari miglioreranno Eh non posso usare accio adesso Resta girato Resta girato Exauror Quello lì sicuro non se la fa Fare sotto il naso Vai vai a vedere Vai 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 Ecco fatto Grazie Prendila E andiamo via Ok Almeno Esatto L'infermeria Ah È esattamente come nel film Cacchio Eh ma qua mi sgamano Bene Suppongo sia ora che faccia il giro dei pazzetti Cacchio Che è successo Che Chi è stato Allora Stranamente Siamo riusciti comunque Ad ottenere quello che dovevamo Dobbiamo sperare che si allontanino Mese vincenti E con corboniero Avrei fatto un buco nell'acqua Quest'anno Mere Cacchio Che rischio Prof non me guardi Ok Non so come sia Siamo sopravvissuti Ma ce l'abbiamo fatta Ok La prima statua è andata Guarda giusto per sicurezza Un salvataggio Andate a vedere Forza Bon 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 Almeno Almeno lei La Ekat Cacchio non mi guardare tu Ok La Ekat Il mio istinto non sbaglia mai Sapevo che c'era qualcuno E c'ha ragione prof C'ha ragione Sono andato troppo veloce Sì Ti piacerebbe che lo rifaccio da qua Spero che il salvataggio però almeno mi riporti dovero No Il salvataggio mi riporta qui Cacchio Devo rifarmi tutto per davvero Che palo Vabbè almeno l'infermeria Ce la siamo tolta Almeno loro se ne sono andati Reveglio Guscio della tartaruga ingioiellato E ok almeno l'infermeria ce la siamo già levata dalle scatole Ma se io vado di qua Che cosa c'è? Ah la chiave Qua però si apre c'è l'orologio Perfetto Vabbè in teoria non dovrebbe vedermi Vai là in fondo Ecco fatto Ecco qua Fantastico Non gridare però che Sottisgamano Cretino Vai a vedere Forza cagnolino Vai Bau Bau Questo deve essere il bagno dei prefetti Ok Allora Bagno dei prefetti Quarto film Fatto Non era proprio così o sbaglio? Allora Allora iniziamo a prenderci sto forziere Speriamo almeno qualcosa di bello Se come no Non mi vedono da qua dai Perfetto Ok Devo Andate tutti Tutti di là Forza Ok 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 Dai 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 Ok Io voglio provare a risalire di nuovo Solo per vedere Se c'è qualcosa qua dentro Ci sei tu Le missioni stealth Ammetto che non me le aspettavo Ok Missione completata Uff Andiamo ce ne va Tiè fatto Salve signor Moon Ho le lune che mi ha chiesto Ah Non temi nulla Proprio come speravo Ottimo inizio Se riusciremo ad averne altre Potremmo capire chi si cela dietro tutto questo L'importante è che mi segnalo Mola superiore Poi Con i suoi scherzi Ha portato il precedente custode Rancorous Carp Al pensionamento anticipato Ma non sbaglierebbe affatto Il molliccio Hogsmeade No? No Sono deciso a scoprire Con il tuo aiuto Chi è Che mi tormenta D'accordo Scopriamolo Davvero intrigante Mi piacerebbe aiutarla a risolvere il mistero Ah Tu si che conosci la gentilezza E la sete di conoscenza Ho qualcosa da offrirti In cambio Del tuo aiuto Ovvero? Ora ricorda Le lune sono recuperabili solo di notte Quindi ti incoraggio a utilizzare Un incantesimo di disillusione E questo vuol dire Che se ci serve Dovremmo aumentare il talento Per evitare di farci sgamare subito Ho capito Terrò gli occhi aperti Lo apprezzo molto Di nulla Tanto fa parte della missione quindi Sapevo che eri la persona giusta Per questo lavoro Continua così E risolveremo il mistero Certo No L'importante è aver ottenuto All'umore Il resto è relativo Ma la vera domanda è ora Ma se io adesso entro Nella stanza Dei docenti Posso farlo tranquillamente? Non ci sono più prefetti O sbaglio Puff Magia Scomparsi tutti Grande programmazione questa Per la missione Tutta quest'area È proib... Bello Tutto poligoni Guarda che bello Quest'area è proibita Ci sono i professori Nessuno può addentrarsi Finita la missione Scomparsi tutti Ah no L'infermiere è qui Però giustamente Non ci dice nulla Il gioco è bello Perché è bello Ha dei piccoli problemi A livello di programmazione minima Però Andiamo da Sirona O andiamo a lezione Andiamo a lezione di animali Dai Chi è il professore di lezione Degli animali Tra l'altro? Come la raggiungo Quella pagina Scusami Ah Fantastico Non me... Ci ho provato Eh io Non me l'aspettavo E questa stanza Che cos'è? È la prima volta Che la vedo Ah ci sono gli stessi simboli Che ci sono Ho capito però Come le apro? Sono gli stessi simboli Che ci sono sul problema Quello lì dei numeri Che poi ho appena notato Che c'è tutto In tema per Halloween Che era ovvio Che sarebbe successo Però è la prima volta Che le vedo Ed è bellissimo Ecco qua Volare Semplifica tantissimo Tutto in sto gioco Mamma mia Ed eccoci qui A casa Del custode Degli animali L'agrid Di questo gioco Benvenuti a tutti Vedo che avete già conosciuto Alcuni degli animali Che studieremo Nelle nostre lezioni I puff skin Ma vi avverto Ah il dodo Non commettete l'errore Di prenderli sotto gamba Che carino Ognuno di essi Può essere Pericoloso Ebbè certo Soprattutto se non si sa Come gestirlo Nel modo giusto Ovvio Sembra che molti di voi Siano fuori allenamento Dedichiamo un po' di tempo A ripassare le basi Della cura degli animali Non è questo di fuori allenamento Che proprio non so un cazzo Potresti aiutare Il nostro nuovo arrivo Con la lezione di oggi Sì professoressa Grazie Sweeting Ciao io sono Poppy Poppy Sweeting Ciao Poppy Non preoccuparti Per quello che ha detto La professoressa Owen esagera Gli animali che studiamo Sono aggressivi Signorina Sweeting Attenzione per favore La lingua di un puff skin Sfuggente come un'anguilla Sì professoressa Ecco Esercitati su Gerald Gerald Che carino però Puoi usare la mia spazzola Devi solo essere gentile Oh E pensa a cose belle Mi piace pensare Che arricchisca La sua esperienza La spazzola di un'anguilla Utilizzata per Nessicura degli animali Premi Qua avvicinarti Ah c'è proprio C'è proprio uno slot Apposta per la spazzola Voglio dire Ma perché no D'altronde Bello Gerald E' un tamagogi Credo che abbia pane Ti dispiacerebbe Dargli un po' Di mangime Certo Sembrano dei piccoli stronzi Però Te Magna Ma non ci arriva Abbassagliere un po' Abbiano le crocchette Per Gerald A me piace pensare Che siano dolci A me sembrano Delle crocchette Di patate Ne sono felice Sembra molto simpatico Lo è Con gli occhi all'insù Ma che cazzo volete Subito dopo L'ambizione E la pulizia Ottimo lavoro Bravi Ora andiamo Ai recinti Per selezionare Un altro animale Ippogrifo Mi raccomando Fate attenzione Quando li nutrite E spazzolate Sweeting Puoi mostrare Al nuovo arrivo Il recinto Dei knisol In fondo Da questa parte I knisol Sono qui Io voglio Che lei sia Il mio interesse Amoroso Voglio avere Una relazione Con questa ragazza Ma sono Dei gattoni Con un paio Di baffi Di knisol Posso tirare su Qualche zellino Così poi ci compro Qualcosa Da mielandia Certo Come no Spero che Ti ammazza Il gattone Stupida bestia Ma che stronzo A parte la risoluzione Ma quella Non dovrebbe essere Una corvo nero E avere un po' Più di intelligente Andiamo Dai coglioncello Vai via Grazie Miau Quei due Non dovrebbero essere qui Sono dei futuri Bracconieri Persephone Li ha smascherati subito Grazie per l'aiuto Ci mancherebbe Nutri e spazzola I knisol Come hai fatto con Gerald Non puoi ancora farlo Ovviamente Rispettare l'animazione E poi gli dai La magna Quanto ci vuole però Magna le crocchette I knisol Ti hanno preso In simpatia E meno male dai Sanno riconoscere Una brava persona Quando la vedono Come sei piegato Tu Per che il nostro tempo insieme Sia finito Vi prego di chiudere i recinti E uscire Magna Dov'è il nuovo studente? Sono qui prof Eccoti qui Vorrei parlarti Se non ti dispiace Tutto quello che vuole Una rottura di pa... No non è vero Gli animali mi nervosiscono Molto probabile Alcuni possono perfino Fornire materiali magici Se adeguatamente accuditi Tipo le piume Dell'uccellaccio E non include la tortura Grazie A proposito Grazie per aver difeso Quel knisol Ma la prossima volta Lascia che me ne occupi io Sì professoressa Sono quasi peggio Del branco dei bracconieri Di Rookwood E purtroppo Siamo noi a soffrirne Ho visto che ci sono Degli animali ingambiati Ma ci serviva All'omora Che terribile spreco di risorse I bracconieri Saranno assicurati Alla giustizia Vero? Ci penserà il ministero Spero Sei molto ottimista Per ora Concentriamoci su questioni Più immediate E alla nostra portata Del tipo? La professoressa Weasley Mi ha chiesto di preparare Degli incarichi Che ti aiutino A metterti in pari Con i tuoi compagni Ovvio Ti manderò presto Un gufo Certo prof Ti consiglio vivamente Di studiare Quanti più animali possibili Appena hai del tempo libero Certo Certo Ebbene I gattoni Ciao Poppy Dimmi Avevi bisogno Poppy? Volevo ringraziarti di nuovo Per aver parlato Con quei bruti Al posto mio Sei come un auguri Nel deserto A mezzagio Spero che il tuo sia un complimento Sì è una frase Che diciamo io e mia nonna Quando qualcosa O qualcuno Ci sorprende piacevolmente Almeno Questo è il significato Perché non ci sono le romansi Sto gioco Non potevo sopportare Che maltrattassero Quella creatura La pensiamo in modo simile Anzi A questo proposito C'è qualcuno Che vorrei farti conoscere Nella foresta Andiamo allora Mi hai incuriosito Molto bene Fai strada È quello che speravo De Andiamo Poppy Su Sono il primo che capita Sono l'ultimo arrivato Donna Beh Grazie Credo Come dicevo La pensiamo in modo simile È una sorpresa piacevole Beh È un pensiero comune Spero Non maltrattare gli animali No Nella foresta Te l'ha appena detto Credimi Manca poco Non preoccuparti Sì Sì È tranquilla Io intanto prendo risorse in giro Rimani lì Adesso fa un urlo per richiamarlo Ah Qualunque cosa fosse Immaginavo facesse qualcosa di simile Oh Un ipogrifo Che bello Ciao Ti presento alla forte Non trovi anche tu che sia meravigliosa È un bel piccione Su forza Fatti conoscere Ma attenzione Devi mostrare il dovuto rispetto L'inchino E aspettare che anche lui Prima di avvicinarlo Vediamo se gli fa l'inchino Ciao Sono alla forte Resta giù tu Ciao Piacere Sei simpatico Sì va bene Mi faccio atterezzare Non ho mai visto un ipogrifo Affezionarsi tanto rapidamente a qualcuno Puoi spazzolarla e darle da mangiare Se vuoi Che carina Ogni tanto vengo a vedere come sta Le porto delle sfoglie ripiene E le racconto cosa succede al castello A guardarla non lo diresti mai Ma è una curiosona Beh c'è un po' l'aspetto del piccione curioso Che carina Ciao alla forte Addio Ma quanto sei bassa Allora Che ne pensi di alla forte Stupido piccione Mi Mi ha messo in soggezione Fantastica ovviamente È davvero fantastica Grazie per avermela presentata Ancora non ci credo Sapevo che voi due Sareste andati d'accordo Quindi sei tu Il motivo per cui Sono stati visti degli ipogrifi Volare sulla foresta proibita Forse Lo sai che quando ti guadagni La fiducia di un ipogrifo Lui ci sarà sempre per te Ah come le felici Io l'ho provato di persona con lei Esattamente come vi siete incontrate Tu e alla forte È una lunga storia Ma per farla breve Qualche anno fa L'ho salvata da alcuni bracconieri E messa al sicuro Ora però Temo non lo sia più Avrai notato che i bracconieri Stanno diventando un bel problema Purtroppo Ho paura che possano catturarla di nuovo E stavolta Potrei non riuscire a salvarla Quindi vuoi la mano da me Ha accennato a dei bracconieri Dalle sue parole Sembra non si possa contare Sull'aiuto del ministero Raramente sono d'accordo Con la professoressa Ewin Ma su questo ha ragione L'influenza dei bracconieri Cresce sempre di più Li vedo aggirarsi ogni giorno Per il villaggio O parlare con la gente Stanno tramando qualcosa Solo che non so cosa Ovviamente In effetti è un po' strano Sembra quasi che stiano Architettando qualcosa Esatto Voglio indagare un po' Scoprire cosa sta succedendo Cosa stanno facendo D'accordo Facciamolo Credo sia un'ottima idea Sapere è potere E più riuscirò a scoprire Più potrò tenere alla forte Al sicuro Chiaramente Mi sembri molto determinata Se scopri qualcosa Fammi sapere Va bene Contaci Ti manderò un ufo Ora meglio che vada Ma ci vediamo presto Spero Lo spero anche io Peccato che non ci sono le romance Bella il tasso rosso Bella lei Poi bassa Come piacciono a me